Potenziare le condizioni di sicurezza della polizia locale e dei cittadini con dotazioni ulteriori e più tecnologiche di quelle base, non solo teaser dunque ma anche bodycam o videocamere da corpo per dirla all'italiana. Saranno 22 quelle acquistate dalla polizia municipale di Pescara come da apposita delibera ma nell'ambito di un progetto molto più complesso illustrato dall'assessore comunale Adelchi Sulpizio ai telespettatori di Rete 8. Un progetto molto più ampio che noi come comune di concerto con l'ASL e l'Università di Chieta andremo a fare soprattutto all'interno della verifica dei controlli sulle nuove droghe, su queste nuove droghe sintetiche. Quindi all'interno di questo protocollo prevede per l'appunto ad esempio l'utilizzo di un camper dove vengono fatti dei prelievi in seduta stante e si riesce a capire che tipo se la persona sottoposta a controllo di concerto delle forze polizie ad esempio ha fatto uso di droghe o di alcol. L'utilizzo delle bodycam però non è così semplice e scontato. Va detto che la videocamera da indossare raccoglie audio e immagini delle persone riprese corredate di data, ore e coordinate geografiche. La consultazione del materiale girato però non è accessibile a tutti ma solo a personale autorizzato e solo in caso di necessità di accertamento dei fatti, per esempio a seguito di una denuncia di reato o di disordini specifici. Le immagini possono diventare fonti di prova utilizzabili in caso di contenzioso. Naturalmente bisognerà sempre tenere presente il disciplinare di utilizzo che spiega come e quando le videocamere possono essere installate sia sulle divise degli agenti in servizio che agli angoli delle strade nell'assoluto rispetto delle norme sulla privacy di cittadini e operatori. Posso assicurare ai cittadini, come è stato per le telecamere, la prima cosa è stata di dotarsi di un elemento importante di privacy e di far sì che queste telecamere garantiscono assolutamente la privacy dei cittadini. Anche la formazione? Assolutamente, e questo lo dico in primis come assessore ma anche come avvocato perché ti dico che la privacy deve essere garantita. Soltanto in quella maniera possiamo anche avere sempre più fiducia a parte dei cittadini e i cittadini possono stare tranquilli perché Pescara assume sempre un ruolo cruciale su questo. La telecamera oggi, anche per esperienza l'abbiamo visto, ha una funzione prevalentemente deterrente tant'è che le richieste di installazione di telecamere sono, penso, che continuano sulla città di Pescara. Il cittadino oggi non avverte la telecamera come una forma di grande fratello, anche perché ha compreso che, io dico sempre che pur essendo assessore alla videosorveglianza, dal giorno di inaugurazione non ci è consentito proprio neanche l'accesso, quindi alle telecamere tutto quello che, anche il livello di sicurezza con cui vengono trattate le immagini. I cittadini ci chiedono continuamente l'installazione di telecamere perché noi abbiamo anche un dato che dove ci sono le telecamere per esempio determinate situazioni non avvengono più.